Si chiama il gioco dell'amore questo, se non funziona vi lasciate, no stai scherzando, ma no stai scherzando, si può dire tanti quei cazzati, allora siamo pronti, prendi una carta, guardala bene e guardala solo tu però, bravissima, posso dire che tocca una carta, ora facciamo, ora, guardatemi negli occhi e guarda cosa succede, osserva, 1, 2, al mio 3 girate le carte verso me, 1, 2, 3, vai, interessante, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siete innamorati, siete innamorati, quanto fa, ma come siete, di dove siete ragazzi? Di mestre, di mestre, le altre le salute fin qua per vedere chi? No io per vedere Belen, mi hanno già visto, lui per bene, è venuto lui per Belen, Allora dopo io, se riuscirò a reggere ancora, andrò sul palco e farò un gioco a Belen, un gioco che l'ho chiamato Belen Cardtreat, andatelo a vedere perché è bellissimo, ok? Poi su YouTube, non so se reggia giusto a lei, Belen, è bellissima lei? È bellissima, ma è più bello, 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 è più bello. Io, anticipo, è più bello, 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 è